E' stato pubblicato qualche giorno fa il nuovo bando per la missione ai corsi di diploma di istruzione tecnica superiore 2024-2026 per l'automazione integrata in ottica di industria 4.0 nell'ambito del sistema meccanico-meccatronico dell'ITS Antonio Bruno di Grotta Minarda. Le iscrizioni sono aperte fino al 15 settembre 2024 e saranno ammessi 23 o 25 allievi. Possono accedere alla prova selettiva i giovani tra i 18 e i 35 anni che abbiano conseguito un qualsiasi diploma superiore. Il corso biennale è completamente gratuito e finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e avrà la durata di circa 2000 ore di cui il 60% dedicate a lezioni ed esercitazioni con didattica laboratoriale e il restante 40% attività di stage presso le aziende partner. Per i nuovi iscritti ci sarà la possibilità di accedere a borse di studio rispettando specifici requisiti SE e ISPE. 5 le aree di svolgimento dei corsi Grotta Minarda, Vellino, Airola, Fratta Maggiore e Salerno. I frequentanti potranno acquisire competenze tecnologiche, specialistiche e professionalizzanti che costituiranno un bagaglio culturale e pratico da poter spendere con successo su tutto il territorio regionale, nazionale ed europeo. L'avvio delle attività formative è previsto invece per l'ottobre del 2024.